Palazzo Badini ha follato per la due giorni del convegno sulla mobilità dolce, organizzato dal comune di Pordenone e rivolto a cittadini, esperti operatori e tecnici. Sono stati analizzati dei dati raccolti nel corso delle indagini per poter studiare il fenomeno. Sulla scorta di questi sono emersi suggerimenti per attuare interventi finalizzati a sostenere la mobilità dolce allo scopo di incrementare l'uso della bicicletta, limitare il traffico e garantire la sicurezza oltre che la salute. L'assessore comunale alla mobilità Bruno Zille. Uno dei temi fondamentali credo che sia quello di andare a recuperare alcuni luoghi della città e renderli più vivibili per questa. E' uno dei sistemi che negli indirizzi della mobilità è praticamente meno auto e più spazio alle biciclette e ai pedoni. Credo che questa sia ormai una tendenza incontrovertibile che è risentita in tutte le città ma quindi anche un nuovo modo di comportarsi, di essere. Bisogna impostare una cultura diversa, questo per mettere di muoversi in sicurezza e di andare a recuperare quegli angoli della città e dei quartieri che sono fondamentali per poter dare vivibilità ma anche per rilanciare secondo me anche l'economia. Questo è uno degli aspetti fondamentali. Il tema che il nuovo piano della mobilità sostenibile porterà avanti i 360 gradi è proprio quello della mobilità dolce. Poi da lì possiamo fare tutti i ragionamenti di come sarà la nuova viabilità, quale saranno le aree pedonalizzate, quello che dovremmo migliorare soprattutto per quanto riguarda le piste ciclabili per dare quei concetti fondamentali di continuità e di sicurezza. Grazie. 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 Grazie.